Sono promesse, sono i soliti annunci, io ritengo che Renzi per coprire e per cercare di sanare quelli che sono altri problemi da Milano abbia fatto appunto un annuncio, come lui è abituato ormai da due anni e mezzo a fare, quindi ogni qualvolta che è in difficoltà, che cala nei consensi e che deve recuperare ovviamente l'appeal elettorale interno al suo partito e ovviamente con gli italiani lui lancia questi spot rivoluzionari, adesso è ovviamente il calo delle tasse, un imponente calo delle tasse che per carità di Dio se ci riuscisse saremmo come partito felicissimi, ma anche credo come italiani. Il problema vero che Boccia in parte sottolineava all'inizio del suo intervento è che per coprire quello che Renzi intende fare da qui al 2018 passando innanzitutto per l'abolizione del limo sulla prima casa nel 2016 ci vogliono tanti soldi, soldi che noi ancora dobbiamo trovare per coprire la finanziaria che abbiamo approvato perché c'erano le famose clausole di salveguardia. Il dettaglio dell'età